Il beneficio lavoratori precoci riservato a chi ha iniziato a lavorare prima di aver compiuto i 19 anni di età permette di accedere alla pensione anticipata con un requisito di contributi ridotto. Più precisamente si può ottenere questa agevolazione con 41 anni di contribuzione. La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici. Il requisito si abbassa di un anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita. Possono accedere al beneficio i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive con almeno un anno di contribuzione per periodo di lavoro effettivo svolto prima del compimento del 19esimo anno di età e che siano nelle seguenti condizioni. Dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno 3 mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%, dipendenti che da almeno 6 mesi svolgono in via continuativa un lavoro usurante. Per ottenere il beneficio è necessario presentare la domanda all'Inps. Grazie!